Ogni anno in Italia sono più di 2000 bambini che spariscono. Le tragedie dovrebbero unire le famiglie invece di separarle. Non voglio che ci senta quelli in piccola della vicina. Vorrei aiutarla. Sono una psicologa, non una detective. Ma che cazzo dici? Così mi fate fare la stessa fine di mio figlio. Mi prendo un'altra. Lo zuttano, lo ha finito sul serio la stronza. Mandate la squadra e avvertite il medico legale. Non so più che pensare, siamo tutti preoccupati. Ma loro sanno che io so. Non so più che pensare, non so più che pensare.